Beh diciamo che la conclusione di un percorso non a caso nel ventennale è uscito quindi per noi è un ulteriore motivo di orgoglio che conclude praticamente un tempo diciamo e non ci può fare altro che piacere assolutamente. A parlare Alma Petri, vedova di Emanuele Petri, sovrintendente della Polfer, ucciso il 2 marzo 2003 in un conflitto a fuoco con due esponenti delle nuove BR a bordo del treno Roma-Firenze all'altezza della stazione di Castiglion Fiorentino, oggi ad Arezzo, presso la casa Museo di Ivan Bruschi, nell'ambito del festival La Città dei Lettori, la presentazione del libro Un poliziotto di nome Lele. Il volume, edito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, contiene il romanzo Le ferite di marzo della scrittrice perugina Cinzia Corneli. È in questa parte dove viene fuori l'altruismo di Emanuele, ci racconta la vedova Alma. Aveva fatto amicizia con un giovane carabiniere colpito da un encefalo mielite, rimasto paralizzato. Emanuele era diventato il suo angelo custode. Quel giorno non doveva nemmeno essere in servizio, avrebbe dovuto accompagnare questo amico alla seduta di fisioterapia, poi sappiamo com'è andata. Il tratto più bello è l'amicizia che intercorre fra questo poliziotto e questo carabiniere che in quel momento era in difficoltà e non si ferma davanti a una divisa che è diversa dall'altra ma è un'amicizia che viene dal cuore. Alla presentazione, oltre a tutte le autorità retine, a cominciare dal prefetto Maddalena De Luca, anche il dirigente della Polfer di Firenze, Marco Dal Piazza, all'epoca dei fatti, dirigente della squadra mobile Di Arezzo, partecipò dunque attivamente all'arresto della terrorista Nadia Desdemona Lioce che viaggiava su quel treno assieme a Mario Galesi, l'altro terrorista, morto in ospedale per le ferite riportate nel conflitto a fuoco. La memoria che è in tutti noi, in tutti coloro che parteciperanno e che leggeranno il libro perché Emanuele Petri, Lele, così come racconta il libro, ha dato la sua vita per la democrazia quindi non bisogna dimenticare, non dobbiamo dimenticare e sarà naturalmente da esempio per le nuove generazioni, ci terrei veramente tanto. Nel libro una testimonianza anche dell'ispettore Ugo Bonelli della Questura di Arezzo. Lele era un amico, un padre e un marito, una persona squisita, speciale, veramente un amico in tutto e per tutto. Lele Poliziotto era il poliziotto che ti dava sicurezza e che ti dava tranquillità. Era una montagna d'uomo e quindi era una sicurezza averlo vicino, non solo per la sua imponenza fisica ma per la sua esperienza illimitata in materia di sicurezza e di attività di polizia di tutti i giorni.